Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da due Patreon diversi, ovvero Cinema Lover e Giovanni D'Agostino, che mi chiedono di parlare del film del 1995, prodotto da Miyazaki, scritto da Miyazaki, tratto da un manga famosissimo, I Sospiri del Mio Cuore, per la regia di Yoshifumi Kondo, che è stato uno degli amatori principali di Miyazaki, che purtroppo morì subito dopo aver lavorato alla principessa Mononoke per un problema al cuore giovanissimo, a 48 anni, quindi un dispiacere enorme per un regista che fa solo questo come regista e che invece dava idea di essere veramente uno dotatissimo, l'animazione infatti è bellissima, il tratto è fantastico, lo studio Ghibli si riconosce a distanza, così come la scrittura del nostro Miyazaki. Ma questa aveva una regia molto fluida, Miyazaki voleva da sempre girare una storia d'amore fra teenager, la diede in mano appunto a questo suo collaboratore che appunto fece questo Sospiri del Mio Cuore, che è la storia di questa ragazzina di Tokyo del 1994, Shizuku, che è una studentessa che sta per andare praticamente alle superiori, e alle superiori che è fissata con la lettura. Va sempre a prendere questi libri praticamente in biblioteca e nota che prima di lui c'è sempre una firma di qualcuno che ha preso i libri che interessano anche a lei e quindi incomincia a fantasticare su questo ragazzi che dovrebbe avere i suoi gustessi e i gusti letterari. Poi qualche giorno dopo, mentre la nostra sta andando verso la metropolitana, incontra uno strano gatto, lo segue e va a rifinire in questo negozio di antiquariato, in questo piccolo quartiere che gli sembrava sconosciuto, dove praticamente trova questo anziano proprietario che incomincia a mostrargli un po' di tutto, tra cui appunto uno strano orologio e soprattutto un gatto, in versione eretta, con vestito a modino con la bombetta, e che appunto in realtà ritornerà poi nella ricompensa del gatto, che il nostro antiquario chiama il barone. E lì la nostra ragazza fa la conoscenza di Seji, il nipote di quest'uomo, che è in realtà uno che fabbrica gli uti e che insomma inizia ad avere un rapporto d'amicizia con la nostra, solo che poi il ragazzo deve partire per Cremona, pensate di Italia per diventare un grande lutaio, e invece la nostra a quel punto decide di poter, di dover chiedere ai genitori due mesi di pausa prima di tornare a scuola, perché vuole scrivere il suo romanzo e poi dirgli tutto al finale, insomma fino a un fondo. Per un film è veramente bello, un film romantico notevole, dove praticamente i personaggi sono scritti con un garbo clamoroso, l'animazione come ho detto è bellissima, e tutto come viene raccontato il Giappone, come vengono raccontate un certo tipo di innamoramento anche dell'arte, è veramente notevole. Il film comunque si porta avanti proprio perché ha un'ironia ganzissima, un'ironia proprio di quelle di gran classe, mai di pancia, sempre di testa. In più ci sono momenti drammatici notevoli, momenti d'avventura, dove tutto si muove e diventa incredibilmente fantastico, proprio a livello di regia, a livello di movimenti di macchine, la ricostruzione, gli acquerelli, questo uso stratosferico di questo utilizzo dell'animazione, proprio nel rendere realistica tutte le cose che sono intorno, le vie, le città, tutto, tutto diventa in realtà arte, e diventa arte in movimento, un movimento che a volte si ferma, con delle inquadrature fisse che ricordano addirittura Osu, un racconto, diciamo così, di un innamoramento, ma non solo fra un ragazzo e una ragazza, ma un innamoramento anche verso l'arte, verso il lavoro, verso la letteratura, verso l'utilizzare le mani per costruire qualcosa, con delle grandissime musiche di Yuji Nomi, per questo film del 1995, che ripeto non invecchierà mai, è fatto benissimo, lì il mio Blu-ray, ogni volta che me lo guardo sto bene, è uno di quei classici film da noi uscito molto in ritardo, che merita di essere visto e visto, perché lo studio Ghibli, come al solito, come dico sempre, non è solo Miyazaki, che è probabilmente il punta insieme attaccata, ma ci sono anche i registi, diciamo, che erano animatori, che hanno fatto film anche come questo, che in realtà valgono di mortone la pena, proprio perché sono dei film incredibilmente romantici, con dei ragazzini, e che sono molto più interessanti, dei teen drama, o dei teen comedy, o di queste cose fantasy, che fanno per i ragazzini di ciccia, proprio perché qui si esalta, sì, la struttura dell'animazione, con, appunto, dei grandi movimenti di macchina, con un livello pittorico enorme, ma si esalta anche, alla grande, il livello cinematografico, i dialoghi sono altissimi, la regia è fantastica, tutto quello che concerne il cinema, diciamo, viene d'animazione, qui viene esaltato un'altra volta a grandissimo film. Il Sospira il mio cuore non è un capolavoro, non è uno dei capolavori dello studio Ghibli, e allora resta comunque un grandissimo film, uno di quei film che tutti quelli che hanno un'animazione devono vedere a forza, perché è comunque un'opera tratta da un manga famosissimo, che ha tirato fuori un regista che purtroppo ha fatto solo quest'opera, poi dopo pochissimi anni, tre anni, è morto, e quindi, insomma, rimane anche un testamento di un ottimo animatore e di un buon regista che comunque poteva dare ancora tanto al cinema, che purtroppo è scomparso, appunto, alla fine degli anni 90. Ripeto, questo Sospira il mio cuore ora si trova anche in Italia in un ottimo Blu-ray, si vede di stralusso, ed è un film per chi ama l'animazione, assolutamente da non perdere. Il link è qua sotto, donatevi su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram, e mi tocca ridire, i suoi spiriti del mio cuore è un film ganzissimo, dove il fantasy in realtà quasi non c'è, quello che è fantastica, appunto, è la storia d'amicizia, d'amore e di passione che avviene fra questi due ragazzini, ma anche fra tutto il mondo che hanno intorno. È grandissimo studio Ghibli e al solito grande film da non perdere.